Sindacati e Confindustria bocciano la manovra. Lei come commenta questa cosa? È un fatto oggettivo. Vedo che anche Confindustria conviene con quelle che sono state le nostre valutazioni. È una manovra che ci porta dritti in recessione. È una manovra nel segno dell'austerità quando invece adesso andava impostata una manovra anticiclica che ci consentisse di reggere questo momento di emergenza e poter ripartire quanto prima. Invece assolutamente contribuirà alla depressione di tutto il tessuto economico produttivo e quindi aggraverà le sofferenze di famiglie imprese. Questa manovra peraltro è una manovra che crea grande ineguaglianza e aggrava le diseguaglianze sociali ed economiche. E soprattutto lo ha certificato anche la Corte dei Conti. Quindi tutte le nostre critiche iniziali vengono confermate anche da fonti autorevoli e non da partiti politici. La Corte dei Conti ha certificato che ovviamente consentire ai commercianti di non utilizzare il posto fino a 60 euro e aggiungiamo anche la possibilità di girare con le tasche piene di banconote fino a 5.000 euro è un fatto recessivo per il Paese perché significa in qualche modo, anche indirettamente, ma favorire l'economia sommersa. È proprio quello di cui non abbiamo bisogno. Avevamo lavorato in direzione opposta. Io credo che il Governo e il Ministro dell'Economia si stanno assumendo una grave responsabilità che pagheremo negli anni futuri.